Ragazzi, vi devo dire una cosa bella, vi devo dire una cosa bella, forse quest'estate non sarà tanto caldo, sarà un'estate normale, senza anticiclone africano, senza rimonta dell'anticiclone africano, perché ho visto le temperature, la massima, siamo quasi a metà giugno, ma la massima non supera i 30, la minima non sale sopra i 20, quindi c'è una massima di 29 e una minima di 17, quindi è una cosa un po' buona per me, che io amo il freddo, quindi speriamo che questo inverno nel 2021 sarà fatto bene, sarà bello ghiacciato, speriamo, perché io voglio l'inverno con la neve, così come ha fatto nel 2017, ragazzi, il 7 gennaio 2017 ha nevicato a Taranto, ha nevicato, e se ha nevicato vi dico una cosa bella, quindi vediamo se nevica, si nevicherà per forza, ma vi devo dire una cosa, aveva ragione anche il sito dell'attività solare, che io chiamo molto attività, ha detto attività solare che questa estate deve essere un po' più fresca, e forse c'è davvero azzeccato, ci ha indovinato, quindi la prossima volta che vedrò quel freddo sarò felice, ma bisogna vedere come si comporteranno luglio e agosto, e settembre un po', se quei mesi sono completamente sotto la media, o forse che non superano i 32-33 gradi, è una cosa buona, soprattutto se la temperatura molto facilmente una notte raggiungi 19 gradi, sarebbe un sogno, quindi vi ho detto tutto questo, forse l'era glaciale sta arrivando, la piccola era glaciale, non l'era glaciale, è una piccola era glaciale, non una era glaciale, l'era glaciale è ancora presto, molto presto, ci vogliono altri migliaia di anni, secondo me ci vuole una piccola era glaciale, come il minimo di Maunder, il minimo di Dalton, il minimo di Sporer, il minimo di Wolf, capito? Adesso siamo nel minimo di Eddie, quindi se vi è piaciuto questo video ci vediamo nel prossimo video, comunque l'era glaciale è iniziata già dal 2020, ciao!